Mister, lo sapevamo alla vigilia che avremmo giocato contro una squadra molto forte, con grande qualità, che gioca in Serie A. Una partita però che il Verona aveva iniziato bene e poi dopo le qualità della Fiorentina sono uscite, ma che comunque il risultato forse non racconta al 100% com'è andata questa partita. Noi abbiamo fatto la nostra gara, abbiamo scelto un approccio comunque solito, quindi quello di andare a prenderle in avanti, piuttosto che un approccio difensivo. Penso che chi ha visto la partita ha visto una buona partita. Dispiace per aver subito quel gol che magari ci ha un po' tagliato le gambe, perché sembrava essere un fuorigioco, però comunque non importa. Noi abbiamo fatto la nostra partita e il fatto di giocare contro una squadra di primo livello non ci può che aiutare e insegnare comunque qualcosa. Quella di oggi era la prima partita del 2023, si riprende dopo quasi un mese di sosta. Che indicazioni hai visto che hai trovato oggi dalle ragazze che sono scese in campo? Ho visto delle ragazze concentrate al 100% che sono scese in campo già dal riscaldamento con un approccio ottimo per quanto riguarda la partita. Ho visto dei movimenti in fase di non possesso palla e in possesso palla che hanno provato durante la settimana, in queste settimane di stop, ottimi. E' chiaro che quando giochi contro squadre di così alto livello qualsiasi spazio lasci o qualsiasi errore viene pagato. Ora c'è una settimana per preparare una sfida molto importante per noi, quella contro il Genoa di campionato. Bisogna lavorare per cercare di ripartire come avevamo concluso l'ultimo mese di dicembre. Sì, traiamo spunto ovviamente da questa gara per capire a che livello siamo, sia fisicamente sia tatticamente. Per questo è stato un ottimo test questa settimana. Queste sono le basi per partire poi in campionato. E' importante iniziare con un buon approccio. Affrontiamo una squadra non facile, completamente diversa rispetto a quello che abbiamo affrontato in Coppa Italia a settembre perché oltre ad aver cambiato il mister si sono anche rafforzate come squadra e quindi ogni cambiamento porta in sé una ventata di aria fresca. Sicuramente troveremo una squadra che approccerà la partita in maniera forte e determinata perché sono anche loro in una posizione di classifica che hanno bisogno di punti. Quindi le ragazze sono sicura che domenica approcceranno nello stesso modo, indipendentemente dal nome diverso della squadra.